Ciao amici di Italianissima TV, eccomi qui, sono qui per augurare a tutti quanti voi, allo staff, a tutti i telespettatori, a tutte le vostre famiglie, i migliori auguri di buone feste. Naturalmente con un super abbraccio da parte mia, di Monica e di tutti i ragazzi dell'Orchestra Rodigini. Con un arrivederci a presto e un abbraccio forte. Ciao!